Ascoltitivo sabato 11 marzo 2023, de voi c'è kids, c'è posta te, Rex un cucciolo a palazzo, dati audit e lescher. Ascoltitivo sabato 11 marzo 2023, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera? Abbiamo dato il benvenuto al mese di marzo già da qualche giorno. La metà del mese si avvicina e il weekend è tutto da vivere. Nonostante ciò, però, nulla è cambiato per i palinsesti. Anzi, la programmazione tv è stata ricca anche ieri. I telespettatori hanno avuto modo di scegliere anche il sabato sera. Il palinsesto. Tra serie tv, programmi di attualità e approfondimento, è stato variegato. Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più i telespettatori? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri. Di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina. Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli ascolti. Su Rai Unlitro Ultima puntata dello Show The Voice Kids Conquista 3. 510,000 spettatori pari al 25,09% di share. Per Rai 3 invece il programma d'approfondimento Sapiens Un Solo Pianeta Conquista una platea di 969,000 spettatori con il 6,01% di share. Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su Canale 5 e Litro Ultima puntata dello Show The Voice Kids Conquista per te catalizza l'attenzione di 4.388,000 spettatori con uno share del 29,01%. Su Italia 1 invece il film Rex Un Cucciolo a Palazzo porta a casa uno share del 3.03% a fronte di 549,000 spettatori. Su Rete 4 La Preda Perfetta 2014 totalizza una montare di, AM, 517,000 spettatori, 3,07%. Chiudiamo la rassegna con i restanti canali. Sulla 7 il film Il Giocatore Rounders appassiona 400.000 spettatori con il 2,29% di share. Su TV 8 il reality Bruno Barbieri 4 hotel è stato seguito da 287.000 spettatori con l'1,5% di share. Su 9 il buono il brutto e il cattivo segna 270.000 spettatori, 1,8% di share. Su 10.000 spettatori con il 4.041.5% di share. Su 10.000 spettatori con il 3.041.5% di share. Grazie a tutti.